Giuseppe Cambiano, ho insegnato molti anni a Torino e poi alla Scuola Normale Superiore di Pisa e sono socio dell'Accademia delle Scienze di Torino. Intratterrò su Machiavelli e Platone. Machiavelli emblema del realismo politico, Platone archetipo dell'utopia. Quale rapporto può mai esserci tra due autori così distanti? Tanto più che Machiavelli aveva ritenuto, polemizzato, contro i molti che hanno scritto e immaginato repubbliche e principati mai visti. Questo già nel Principe. Ora è naturale che la maggior parte degli studi su Machiavelli si siano concentrati soprattutto sui nodi concettuali del suo pensiero politico, sull'inquadramento storico politico del suo pensiero e dell'attività. Credo però che non sia irrilevante rivolgere lo sguardo anche alle forme argomentative impiegate da Machiavelli nei suoi scritti. Da molto tempo gli studiosi hanno messo in rilievo come uno dei tratti peculiari del suo modo di ragionare consiste nella forma dilemmatica costruita secondo disgiunzioni. O, O, out, out. Che hanno la proprietà e se è vero A allora non è vero B e viceversa. Cioè questo significa che l'alternativa che queste disgiunzioni presentano è esaustiva, cioè esclude una terza possibilità né aggiuntiva né intermedia. E Machiavelli è attentissimo in molti casi a non usare un solo O perché un solo O potrebbe dare luogo ad equivoci e può comportare anche un valore additivo. E invece insiste con la ripetizione O, O, proprio per sottolineare l'esaustività di questa alternativa. E questo già fin dal primo, dall'inizio del principe quando dice o repubbliche o principati e poi in seguito dove per esempio dice gli uomini offendono o per paura o per odio. Naturalmente Machiavelli è consapevole che esistono, eccezione possibile, un caso emblematico è quello della coppia di concetti virtù e fortuna, dove a volte i due termini si contrappongono come alternativi, mentre altre volte si congiungono secondo diversi gradi relativi. Il caso più frequente tuttavia è dato dall'impiego di dicotomie con valore disgiuntivo. L'efficacia di questo uso di queste espressioni dipende dalla capacità di individuare alternative esaurienti nella realtà che escludano altre possibilità. C'è però un altro aspetto da considerare, quindi questo è un aspetto sottolineato sovente negli studi, ma c'è un altro aspetto che invece è meno sottolineato e cioè in vari suoi scritti Machiavelli non si limita a usare dicotomie di questo genere, ma costruisce vere e proprie catene dicotomiche, alberi dicotomici in cui ogni dicotomia dà luogo ad altre dicotomie, queste e altre ancora, che si innestano nelle precedenti. Questo modo di argomentare si trova già ben documentato per esempio nel discorso sopra le cose di Pisa del 1499 e del modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati del 1503. Ma soprattutto i primi nove capitoli del Principe sono intessuti da una rete fittissima di dicotomie di questo genere. La nozione stessa di principato, faccio qualche esempio, è dicotomizzata in principato ereditario o principato nuovo. A sua volta il principato nuovo è dicotomizzato in principati totalmente nuovi o principati aggiunti a uno stato ereditario e in seguito poi le dicotomie successive applicabili, per esempio, ai principati nuovi sono individuate, altre dicotomie, in base alle caratteristiche dei nuovi sudditi o abituati a vivere sotto un principe o abituati a vivere liberi e agli strumenti con cui si perviene l'acquisizione del nuovo principato o con armi proprie o con armi altrui. Anche qui ovviamente Machiavelli è consapevole che non si tratta di uno schema astratto, indipendente dalle articolazioni della realtà e che quindi possa essere applicato meccanicamente in ogni caso, ma uno strumento che consente di cogliere la realtà stessa senza saltare o mettere aspetti decisivi, che si apra lo spazio possibile per altre possibilità, è stato messo in luce rispetto a queste regole generali, è stato messo in luce per esempio in un saggio del 2003 da Carlo Ginzburg dove ha mostrato l'importanza dell'uso da parte di Machiavelli dell'espressione non di manco. A questo punto può entrare in scena Platone. Ma in che senso? Trattazioni sulla partizione, sulla divisione, sono ampiamente documentate nella tradizione retorica latina antica, in cui si distingue tra partizio, divisione di un tutto in parti, e divisio, divisione di un genere nelle sue specie, da Cicerone, Quintiliano, sino a Boezio. E poi soprattutto nella trattatistica giuridica, e qui si trovano impiegate dicotomie, per esempio tra furto manifesto e furto non manifesto, ma senza che esse occupi una posizione privilegiata, tanto è vero che nella letteratura giuridica ricorrono ha anche tricotomie, come nel caso delle tutele, quadricotomie, come a proposito dei legata. Ma nella vasta trattazione che Mario Talamanca ha dedicato a questo aspetto della trattatistica giuridica romana, non ho trovato però l'uso di protratte atene dicotomiche, cioè di questi alberi dicotomici che invece Machiavelli usa. E dove poteva trovare un precedente in questo uso? Era appunto in Platone. In Platone poteva trovare l'impiego di queste ampie e lunghe catene applicate a casi concreti, nel sofista, al caso del pescatore con la lenza o del sofista stesso, ma è difficile, credo che Machiavelli potesse essere interessato a questo dialogo, ma soprattutto nel politico, dove appunto, che era stato tradotto da Marsilio Ficino nell'edizione del 1484 con il titolo De Regno del Civile Librum. Indizi sulla possibilità che Machiavelli conoscesse il testo platonico, uno è senz'altro quello documentato dai rapporti del padre Bernardo col cancelliere Bartolomeo Scala. Questi nel 1483 compone un De Legibus et Judicis Dialogus dedicato a Lorenzo, dove l'interlocutore di Scala è appunto il suo amico Bernardo Machiavelli, che emerge non solo come conoscitore del diritto, ma anche per la conoscenza di Platone. Di Platone, dice Bartolomeo, divino filosofo, so che tu spesso, che tu, Bernardo, spesso sei solito ammirare per la sua sapienza e sei solito allegrati moltissimo che i suoi scritti per opere del nostro padre della patria, Cosimo de' Medici, che si era procurato questi libri, trasmise da leggere ai suoi cittadini e quindi attraverso la traduzione di Marsilio Ficino. Il curatore del diario di Bernardo Machiavelli, Leandro Perini, è ipotizzato appunto la possibilità che nella biblioteca di Bernardo, ammiratore di Platone, ci fosse anche l'incunabolo della traduzione di Ficino, a cui quindi anche Niccolò poteva accedere. Ora, che cosa poteva trovare Machiavelli nel politico? Potreva trovare la costruzione di catene dicotomiche applicate proprio all'ambito della politica. In esse, ogni passaggio della dicotomia era strutturato secondo una logica delle disgiunzioni esaustive per cui uno dei corni dell'alternativa esclude l'altro e viceversa, senza vie di mezzo. Machiavelli questo aspetto poteva apparire congruente con il suo modo di pensare, ma come al solito egli non è suddito passivo delle sue eventuali fonti che anzi fonde nel crogiolo del suo pensiero, introducendo di fatto differenze a volte radicali. Questo vale anche per questo aspetto del pensiero platonico. Infatti in Platone la costruzione di queste dicotomie ha un carattere prevalentemente descrittivo ed ha come obiettivo quello di trovare, alla fine della costruzione di queste dicotomie, la definizione dell'oggetto in questione, in questo caso di chi sia il politico. E Platone ogni volta lascia cadere uno dei due rami di questa distruzione, cioè quello che non ha rapporto con questo oggetto da definire, cioè chi sia il politico, e lascia sussistere solo l'altro ramo delle dicotomie, fino a raggiungere, attraverso specie sempre più ristrette, fino a raggiungere l'oggetto da definire, cioè il politico. Era dunque uno strumento in Platone che consentiva di rintracciare il posto di una X dentro una realtà più ampia fatta di alternative che si agganciano l'una all'altra, ma lasciando via o via fuori gli altri rami alternativi. A Machiavelli invece interessa individuare tutte le articolazioni che il Principato presenta e quindi le varie forme che si assume o può assumere nella realtà e perciò non lascia cadere di volta in volta, come fa Platone, una delle due coppie alternative, ma le mantiene e sviluppa tutte fino in fondo. E questo gli permette di compiere una serie di operazioni che sono invece assenti nel procedimento puramente descrittivo delle divisioni Platone. Fin dall'inizio del capitolo secondo del Principe risulta chiaro che il problema centrale è non solo descrivere quanto, dice, disputare come questi principati si possano governare e mantenere. In gioco è quindi l'individuazione delle condizioni di possibilità della conservazione del potere oltre che dell'acquisto di esso e ciò richiede l'impiego di ulteriori strumenti concettuali che tuttavia non comportano l'abbandono della struttura dicotonico disgiuntiva. Infatti il capitolo secondo stabilisce una comparazione tra principati ereditari e principati nuovi in base ai gradi relativi di facilità o difficoltà nel mantenere questi due tipi alternativi di Principato. Il fatto che egli formuli una comparazione significa che i due casi non rappresentano dilemma insolubili, ma costituiscono alternative che è possibile confrontare in termini di costi-benefici o meglio appunto di facilità o difficoltà di realizzazione. Machiavelli accompagna quasi sempre queste comparazioni e le conseguenti valutazioni con la spiegazione dei motivi che conferiscono a certe alternative maggiore o minore difficoltà. Anzi, proprio queste comparazioni suggeriscono quale sia la via preferibile da scegliere alla luce dei fatti, inclusi il carattere e modo di agire di un principe ereditario, per esempio, oppure se i popoli del Principato Nuovo aggiunto sono usi o no a vivere liberi e anche condizioni esterne e così via. Ciò significa che lo strumento dicotomico ha una portata, come dicevo, non solo descrittiva, come era in Platone, ma anche valutativa e prescrittiva. Funge da strumento per suggerire anche regole d'azione e compiere scelte, mettendo in atto misure o rimedi, come dice sovente Machiavelli, atti a condurre a questi esiti positivi. Ciò si esprime anche attraverso l'impiego frequente di una forma di ragionamento, o meglio di imperativo ipotetico. Se vuoi fare X, fai Y, o se vuoi X, devi fare Y. Ma l'espressione devi o è necessario che non si riferiscono ad una necessità in termini di valore o un dover essere morale, tantomeno assoluto, bensì a una necessità di tipo condizionale, dipendente dall'assunzione della possibilità, dalla positività dell'antecedenza introdotto dalla particella SE. Cioè, non si tratta di valutazione scelte compiute in base a valori etici prioritarie o esclusivi, ma in base all'accertamento di condizioni oggettive. La presenza della comparazione e della prescrizione in queste alternative dicotomiche mostra come Machiavelli si muova, come sempre, liberamente rispetto a eventuali fonti dalle quali trae tesi o suggestioni, ma soprattutto come in lui sia centrale intrecciare l'uso di rami dicotomici con comparazioni e spiegazioni, valutazioni e prescrizioni, e come quindi analisi e riflessione concettuale sull'articolazione della realtà si connettono costitutivamente, siano funzionali, a indicazioni di vie da percorrere per l'agire politico. È inutile sottolineare inoltre come l'uso di disjunzioni radicali si coniughi in Machiavelli, con il rifiuto sovente messo in rilievo, per esempio già da Procacci, della via di mezzo, della politica come mediazione e della neutralità di cui documento significativo sono, oltre a numerosi passi dei discorsi su Tito Libio o dell'arte della guerra, le lettere all'amico Vettori del 1514. Machiavelli è consapevole di vivere in un'età, noi diremmo, di crisi, a cominciare dalla discesa di Carlo VIII in Italia. Ma se non vado errato, il termine crisi non ricorre nelle opere di Machiavelli. Come sappiamo, esso è il calco del termine greco crisis, che è origine nella pratica giudiziaria, per indicare il giudizio che discrimina e determina se un individuo è colpevole o innocente. Già nell'antichità però questo termine crisis trovò ampia applicazione nella letteratura medica. e credo che Machiavelli potesse avere presente un importante aspetto di questa tradizione medica ipocratico-galenica. C'è una concezione della malattia come un processo temporale caratterizzato da un decorso, quindi da un'origine, un decorso e appunto dalla crisi. La nozione di crisi, infatti, trova ampia applicazione in vari scritti del cosiddetto corpus ippocratico, che naturalmente Machiavelli non conosceva nel testo greco. Ma alcuni di essi erano entrati a far parte della cosiddetta articella, che era il manuale più diffuso di medicina del tempo e che comprendeva tre scritti ipocratici, prognostico, regime delle malattie acute, aforismi, con i relativi commenti di Galero. Articella stampata più volte a partire già dal 1476 e quindi diffusa, diffusa anche nella cultura fiorentina. E qui troviamo in questi tre scritti inclusi nell'articella proprio un uso estensivo della nozione di crisi. La crisi indicava il momento culminante più o meno breve o protratto. Qui un parallelo è la nozione di giorni critici, che possono essere pochi o molti. Cioè la crisi può essere breve o protratta, in cui la malattia si avvia a trovare un esito positivo o negativo, in cui si decide o per il recupero della salute o per la morte. Non sto a documentarvi la presenza di questo, ma basta in questa caratterizzazione generale. Ora, l'interesse per le questioni mediche era diffuso nella cultura fiorentina del tempo. Basti pensare che lo stesso Marsilio Vicino, nel 1481, aveva pubblicato a Firenze un consiglio contro la pestilenzia, che per i nostri tempi ha una sua attualità. Recentemente è stata rivendicata come a Macchiavelli, da Pasquale Stoppelli, nella sua edizione del 99, due anni fa, una epistola della peste, che è una forza di divertissement e però documenta chiaramente la rilevanza di questo tema. Se è di Macchiavelli, come sembrerebbe probabile, è un ulteriore elemento conferma di questo suo interesse anche per la medicina. Parlare di crisi non significava arrendersi alla fatalità in questi scritti medici, ma tentare di orientare la crisi verso la guarigione, anche se inevitabilmente temporane. Ora, Macchiavelli, come dicevo, era ben consapevole di trovarsi in una situazione di crisi nel senso elaborato dalla tradizione medica, come momento cruciale in cui si decide tra la guarigione e la morte. Il buon politico si può allora configurare come un buon medico, sulla linea di un'antica analogia tra legislatore e medico, già presente nelle leggi di Platone. Macchiavelli avverte appunto di vivere in una situazione drammatica nella quale ci si trova davanti ad alternative alle quali non si può sfuggire e che richiedono scelte tempestive di rimedi confacenti alle situazioni, pena la sconfitta, senza illudersi di poter scampare per vie di mezzo o dilazioni. Lo dice chiaramente nel capitolo terzo del principe stesso. I romani dell'età repubblicana fecero ciò che devono fare tutti i principi savi, cioè badare i disordini non soltanto presenti ma futuri e a essi con ogni industria ovviare. Perché, dice, cito, prevedendosi discosto vi si rimedia facilmente, ma aspettando che ti si appressino la medicina non è a tempo perché la malattia è diventata incurabile. E fa l'esempio dei medici che curano la tisi. All'inizio facile da curare, ma difficile da conoscere, e che col progredire del tempo diventa facile da conoscere ma difficile da curare. La crisi può quindi risolversi in due direzioni opposte. La decadenza definitiva, come qualunque malattia, la decadenza definitiva dell'Italia ha un ritorno ai principi, una riforma, una rinascita che proprio questa crisi può rendere possibile. Si può capire allora la predilezione di Machiavelli per una logica delle alternative e delle disgiunzioni che lui trovava, poteva trovare esemplificata in Platone, che però in lui uno degli aspetti salienti, mi pare non solo di ragionare e di analizzare la realtà, ma del suo modo di agire. Vi ringrazio.